Diciamo no a questa discriminazione illegale in contrasto con norme di rango superiore. Il problema è sempre lui il tanto discusso Green Pass. E a parlare di fronte alle telecamere di Fano TV è l'avvocatessa Isabella Giampaoli, la quale ha iniziato a seguire da quando la certificazione verde è diventata obbligatoria per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, decine e decine di lavoratori che ne sono sprovvisti. Giampaoli, assieme a loro, si dice pronta ad andare a fondo e a dare battaglia perché un decreto legge non può superare un contratto nazionale di lavoro, spiega i nostri microfoni, quindi gli stipendi che ora vengono sospesi dovranno essere pagati in seguito. Sono in prima linea insieme a moltissimi altri colleghi in tutta Italia per combattere questa normativa illegale, illegittima e ignobile che discrimina le persone, quindi qui non si tratta più di salute pubblica ma si tratta di discriminazione. Il Green Pass è in contrasto con la normativa europea, con il regolamento europeo 953, è in contrasto con la Carta dei diritti europea e con la Costituzione italiana, quindi è una norma inapplicabile e che va estirpata. Ecco, che cosa significa andare fino in fondo? Lo stato di emergenza durerà fino al 31 dicembre, così anche l'obbligo di Green Pass, a quanto pare. Ci auguriamo che finisca prima, stiamo lavorando a lacrimente a fronte della sospensione dal lavoro. Abbiamo appunto inviato una lettera per avvisare che è una normativa illegittima e per recuperare gli eventuali stipendi che sono stati decurtati, in quanto esiste un contratto di lavoro che non può essere cancellato. Grazie a tutti.